e allora e allora ci siamo perché l'abbiamo detto ieri l'abbiamo analizzata ampiamente ieri la situazione in casa fiorentina con tutto un video che se non l'avete fatto vi invito a recuperare in cui parliamo in cui ci sfoghiamo educatamente nei confronti di un mercato presso che vicino all'immobilismo oggi però la notizia che già trapelava nella giornata nella serata ieri è che la fiorentina appunto avesse ceduto per 15 milioni al nottingham forest e nicola milenkovich e che stesse clamorosamente provando un affondo per pongracic perché dico clamorosamente perché pongracic il lecce e la formazione francese rossarrenè si erano già accordati da giorni e mancava veramente gli ultimi dettagli per una cifra insomma intorno ai 15 milioni anche quella e quindi di conseguenza sembrava tutto presagire alla conclusione della trattativa con esito positivo e invece la fiorentina all'ultimo si è infilata allora faccio una premessa qui sono stato ultimamente molto critico con la fiorentina qui non avete mai trovato leggerezza nei confronti della società viola e quindi perché esimermi dal dall'essere polemico anche stasera allora non discuso il giocatore perché per me pongracic è un gran bel giocatore perché per me con pongracic vai a fare un upgrade rispetto a milenkovich perché pongracic ha fatto vedere lo scorso anno delle ottime cose in una in un contesto come lecce ha visto poi a firenze ma credo che pongracic sia un giocatore sicuramente interessante però però perché il però appunto ci deve essere io mi domando perché fare al 16 di luglio questo disperato e che io lo definisco in questa maniera disperato tentativo di mandare all'area una trattativa già avviata tra lecce il giocatore e appunto lo sterrenè perché sinceramente io non la vedo una cosa bella innanzitutto da vedere non la vedo una cosa professionale lo hanno provato a fare con noi i romani questi in quest'estate con bel tranne ci siamo indignati ce l'hanno fatto sotto il naso con berbatov ce l'hanno fatto probabilmente sotto il naso con serghei milinkovic e savic e c'è stata l'indignazione popolare come vedete la fiorentina lo scorso anno lo ha fatto lo scorso anno due anni fa l'ho fatto con italiano quest'anno probabilmente lo farà con marine pongracic quindi non mi piace sinceramente perché purtroppo si conferma quello che vado dicendo da tempo cioè che si va a improvvisare cioè ma se tu fiorentina eri davvero interessata a pongracic ma chi ti ha fermato chi ti ha tolto la possibilità di andare da lecce due settimane fa e prendere pongracic cioè avevi bisogno per forza le cose di aspettare la cessione di milinkovic quindi mi confermate che tranne l'operazione moise ken di cui abbiamo parlato ieri va approfondita la situazione che di rovere lo dovrà fare siamo in autofinanziamento cioè vendo milinkovic a 15 prendo pongracic a 15 cioè vendo uno a una cifra allora ricompro uno a quella cifra cioè ho fatto pari e sinceramente a me questa roba non mi piace tra l'altro ennesimo complimento a pantaleo corvino perché pongracic è costato 1,6 milioni e il lecce sta per fare una plusvalenza clamorosa ma si sa corvino avrà tantissimi difetti ma su questi talenti difficilmente difficilmente sbaglia quindi ci inseriamo solo ora secondo me in questa trattativa perché perché fondamentalmente avevamo bisogno della liquidità che milinkovic ci darà andando al nottingham forest l'ho detto in inizio video secondo me facciamo un upgrade rispetto a milinkovic senza entrare nei tecnicismi senza dire tante cose che oggettivamente in questo momento non non ci interessano va detto un'altra verità che questo non è fare scouting cioè andare da lecce prendere uno dei suoi giocatori migliori dello scorso anno prenderlo e pagarlo 15 milioni non è fare scouting cioè non è il concetto di scouting che intendo io cioè questo lo riescono a fare tutti questo lo riescono a fare tutti quindi sinceramente non andrei a stringere la mano a dire complimenti pradè complimenti ferrari complimenti coretti avete fatto un grande affare tra l'altro ripeto non si per non si a livello professionale pongracic non si comporta se dovesse mai accettare la fiorentina avendo già dato la parola al star rené sinceramente non si sta comportando a livello professionale per niente bene e in futuro questo potrebbe succedere perché se faccio un esempio pongracic conferma viene alla fiorentina conferma la storia di l'area andata fatta a lecce lo scorso anno il prossimo anno inter milan juve bologna roma bussa alla porta fiorentina e lui si comporta come si sta comportando adesso con il lecce beh sinceramente voglio dire a me questa cosa qua un po un po scoccia ve lo dico ve lo dico sinceramente quindi avevo dei dubbi questo pomeriggio sul fatto che il lecce potesse accettare di cedere un giocatore non dico una diretta rivale perché la fiorentina al momento non lotta per la retrocessione al momento il lecce deve salvarsi però sicuramente il lecce e quindi corvino che non ha proprio straordinari rapporti con la fiorentina andrebbe a rinforzare un avversario del proprio campionato quindi fino a qualche ora fa era un po' titubata adesso leggo sui siti che sembrerebbe davvero che pongracic avesse accettato appunto e abbia accettato l'offerta della fiorentina quindi per me piace il giocatore è assolutamente interessante è chiaro che se non dovesse arrivare neanche pongracic con la cessione praticamente certa di milenkovic è chiaro che la fiorentina oltre a dover fare tutto il centrocampo deve mettersi all'anima anche di fare la difesa c'è da diciamo da consegnare a il buon palladino che in questi giorni si sta allenando fondamentalmente con una squadra di primavere e alcuni esuberi e quant'altro fatemi sapere che cosa ne pensate noi ci sentiamo nei prossimi giorni un abbraccio a presto grazie 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 grazie